Allora, Salofra Film Festival, alla nonna edizione quest'anno, con noi il presidente, regista Federico Curci e direttore tecnico di sala e rapporti con le scuole Alfonso San Marco. Cosa ci presentate quest'anno? Beh, quest'anno, non edizione del Festival, presentiamo 8 cortometraggi in concorso, questa sera più un cortometraggio fuori concorso. Anche quest'anno abbiamo avuto tante partecipazioni, sono state appunto 94 i registi che hanno partecipato alla nostra manifestazione, tra cui una ventina sono arrivati dall'estero e questo ci fa molto piacere, anche perché fa sì che il Salofra Film Festival sia una manifestazione sempre più internazionale. Quest'anno abbiamo realizzato due giorni di eventi, come gli anni scorsi. Ieri abbiamo proiettato, diciamo, abbiamo riempito il programma con il cinema e il radio, quindi abbiamo mandato un documentario che ho realizzato io, Patria e il radio, e più racconti in radio, quindi due racconti, uno realizzato da me e un altro da Gerardo Pepe, che è un autore che ha presentato due libri a Piamo Strega e queste opere, diciamo, questi racconti sono stati metti, narrati da uno da Maria Grazia De Stefano e un altro da Adriano De Stefano. E oggi chiudiamo la due giorni di Festival appunto con una proiezione di questi cortometraggi in concorso, cortometraggi che sono tutti di pregiore come fattura. Stasera siamo davanti ad autori già affermati appunto e spero che il Salofra Film Festival sia per noi una vetrina importante. Il scenario per il secondo anno, la sana degli archi, compresso dei monumentali di Santa Chiara, è stata una scelta, diciamo, giusta anche perché è una sana molto più intima, raccolta, più centrale, e questo anche per avvicinare tanti, diciamo, cittadini di Salofra a una manifestazione. Alfonso, qual è stata la risposta delle nuove generazioni? La risposta, almeno per i dati scorsi, è stata Rosea, perché comunque la platea è gran parte giovane, se consideriamo giovane una fascia di 30 anni fa, fino intorno ai 30 anni. Quindi molto spesso sono i giovani che si affacciano a questa cosetta arte, una delle tante arti che l'uomo può creare. Però penso che, infatti, su questo, il direttore artistico Pocanzi, Pedro Curci, che è il organizzatore della manifestazione, come ogni anno, ha tenuto a sottolineare l'aspetto internazionale. Io ci tengo a sottolineare anche l'aspetto sociale, perché oltre per le scuole, che noi quest'anno abbiamo poco coinvolto, perché gli anni scorsi avevamo più, diciamo, avuto tempo di fare progettini vari, con proiezioni anche nelle scuole, che l'anno prossimo, probabilmente, si rifaranno. Quest'anno si è tenuto, forse, più a sottolineare l'aspetto, come diceva lui, della zona logistica centrale, una zona anche, non solo più accogliente, ma proprio più vicina alla cosetta cultura. Perché anche il cinema è cultura, quindi questo bisogna anche sottolinearlo. Seppur cortometraggi, ma comunque sono un motivo in più per riflettere sul mondo che ci circonda. Ok, io vi ringrazio per solo fra OGTW e tutto, arrivederci. Grazie a te.